Firenze la grande è il nuovo capitolo narrativo che accompagna la presentazione del lancio della collezione Stefano Ricci primavera estate 2021 un chiaro richiamo alle radici della casa di moda perché mai come in questo momento è necessario ripartire dal proprio dna e far circolare la vita attraverso la bellezza e la conoscenza io credo che la cultura italiana sia di grande supporto di aiuto creativo ai designer forse senza essere nato a Firenze non esisterebbero alcuni dei grandi nomi da Gucci, Pucci, Roberto, Ferragamo credo che tutti quanti dobbiamo un grosso tributo alla nostra città sicuramente ripartiamo da Firenze, dalla nostra Firenze quindi è stato un percorso anche di studio e di ricerca di un periodo storico un po' diverso per raccontare una storia nuova quindi non il rinascimento non la Firenze medievale delle arti e dei mestieri ma la Firenze, la grande Firenze capitale d'Italia dell'Ottocento e in quel percorso proprio andare a raccontare partendo dalla Fontana del Poggi che riuscì a modificare il profilo della città in poco tempo per poi andare ai luoghi che sono il tempio delle ospitalità della nostra città quindi i grandi alberghi fiorentini, il Four Seasons, l'Elvenzia Bristor, il San Regis, l'Eccezior e Villa Cora.